Lorenzo Riccardi è, sicuramente, tra i tronisti passati nel programma Uomini e Donne più amati di sempre. Il suo carattere, la sua simpatia e la sua spontaneità hanno conquistato il pubblico da casa. Nelle ultime ore, però, una id storie spubblicata sul suo profilo personale ha scatenato l'opinione pubblica contro il Cobra. Il ragazzo, infatti, si è reso protagonista di uno scatto che ha fatto molto discutere. Il motivo è celato in un dettaglio presente all'interno della foto, che ha indignato il pubblico da casa. Lorenzo Riccardi e Claudia vanno a vivere insieme.Lorenzo e Claudia sono stati ospitati all'interno di una delle ultime messe in onda di Uomini e Donne. In tale occasione, i due piccioncini hanno annunciato che, molto presto, andranno a vivere insieme a Latina, perché hanno preso casa vicino ai genitori della Dionigi. Tale notizia ha, naturalmente, riempito di gioia il cuore dei telespettatori. Ad ogni modo, nel corso della giornata di ieri, Lorenzo Riccardi si è reso protagonista di uno scatto, effettuato molto probabilmente nel salotto del nuovo appartamento, che ha generato molto scalpore. Uomini e donne. Ecco la foto che fa scalpore.Nella foto non si può non notare il nostro Lorenzo serenamente sdraiato sul divano mentre guarda la televisione. Un dettaglio, però, non è sfuggito all'occhio più attento e vigile. Accanto a lui, infatti, è stato ripreso anche un mazzettino di banconote legate da un elastico. A colpo d'occhio sembra che si tratti anche di una cifra parecchio importante. Che quel dettaglio fosse finito lì per caso è un'ipotesi che non è stata minimamente presa in considerazione. Quei soldi erano lì per un motivo ben preciso, ma quale? Qualunque sia la ragione che possa aver spinto Lorenzo Riccardi ad agire in quel modo, una cosa è certa, il pubblico non ha minimamente apprezzato la cosa. Molti utenti hanno reputato il gesto come un'estrema ostentazione di ricchezza che non porta, sicuramente, opinioni positive. .